E buon salve ragazzi, bentornati al canale, benvenuti in questo nuovo video, qui è Raika e siamo nella nostra bella rubrica di giochettiera questo giochetto si chiama Freerider HD ho fatto più livello per capire di quel che si trattava e praticamente è semplicemente un gioco in cui acceleri cioè con V acceleri, con S freni, con quella T così e non mi ricordo più come funzionava le altre cose allora Z, aspettate sotto, Z cambiamo direzione ok, icono V nuovo veicolo vabbè, comunque abbiamo capito andiamo avanti, non so se avessi trovato credo di no vabbè, comunque, il boost è un'altra questione è difficile per ora questo gioco ok uh, bellissima la slow motion siamo morti ok allora forse è meglio giocare spostati avanti se non muori accelgo non so forte? quanti sono forti? quanto sono forti in fondo allora mettiamo schermo intero oh ah, dobbiamo cambiare direzione ok ah, è brutto ok allora, che mi metti è brutto ok 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 arkadaşlar ok ok lo sposti un po' dietro ok 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 se è sempre coso grande ok bomba z press no ah però dovrei anche bilanciarmi effettivamente per me bilanciati rai lanciati rai ce la facciamo ce la facciamo ok allora questo non credo di farcela è molto male vai cattivo rai ora vai ti giro non è difficile no ce l'avevo quasi fatta però mi sa che non abbiamo fatto la strada dobbiamo andare dritti girarci non troppo e andare e là che faccio mi guardo le dita dei piedi no perché se vogliamo fare l'appertura mi giuro ce la farò prima o poi allora oh 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 che una persona oh oh città è morì aia quello faceva male molto male vabbè ok abbiamo capito questa funzione arrivi qua ti spingi davanti muori quella parte del muore la dobbiamo levare proprio ok ho capito che sono stupido però allora un bo vai 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 ecco questa partita è stata senza particolare problematica però qua non lo so nulla vero di oti jumps una cosa non mi piace chiudati è ok quindi no vigilarti dai dai non compensa sto coso no 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 Perfetto perfetto Facciamo l'ultimo livello Che però andremo A fare Questo qua Mi sta simpatico Lui sta facendo Loading tracks E ora abbiamo le tracks Quindi oggi dobbiamo cambiare direzione Aia Pace Ah Una delle sette stelle Va bene ragazzi Ok Non ci pensi Non so ancora se Spero esperti Noi Ok Quindi se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate Le commentate Iscrivetevi Mi raccomando Passate le soldi Al che come Ogni volta Santa volta Vi lasceranno in descrizione Passateci Per una volta E Al nuovissimo Il suo sito